Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura, come facciamo di consueto, scopriamo quali sono gli argomenti che andremo ad approfondire. Cambia la normativa sulla formazione della polizia locale in Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una legge per cui la Fondazione Scuola Interregionale di Modena, realtà che fino ad ora si occupava della formazione degli agenti di polizia locale, perde l'esclusiva. Il testo prevede infatti la possibilità di avvalersi di altre realtà operanti in questo settore delle politiche pubbliche regionali. Ad illustrare l'atto in aula il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una prima legge che era stata presentata nella prima commissione prevedeva il recesso della regione toscana dalla Fondazione Interregionale per la formazione della Polizia Municipale di Modena. Nella prima commissione si sono tenute una serie di audizioni, le quali hanno manifestato il disagio rispetto al venir meno della partecipazione della regione toscana a questa fondazione che ha lo scopo di curare la formazione della Polizia Municipale. Per questo motivo è stata presentata una nuova proposta di legge, oggi approvata dal Consiglio regionale, nel quale si esclude che ci possa essere il recesso da parte della regione toscana rispetto alla fondazione, ma si prevede che la formazione della polizia locale possa avvenire attraverso differenti canali, tra cui anche la Fondazione Interregionale di Modena. Pertanto si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione a un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione, tra cui anche quello della Scuola di Formazione di Modena. Ogni anno la Giunta prevede quali siano le priorità della formazione, stanzi alle relative risorse e i comuni, nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richieste ottenute dalla regione toscana, comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20%. Si sono astenuti durante il voto della legge Lega, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia. Secondo noi mancava il secondo pezzo, perché mancava il pezzo in cui dicevamo che non ci servivamo più della Scuola di Modena perché ne facevamo una in Toscana. Invece a quello che abbiamo capito dal Presidente Gianni, ancora nonostante la direzione vuole essere questa, ancora la Toscana non è pronta ad avere una sua scuola. Noi crediamo invece che questa sia la soluzione, cioè non più una scuola interregionale ma una scuola toscana. Questo per almeno quattro motivi. Il primo, i fondi che arrivano dal Governo per la formazione di agenti di Polizia Municipale restano in Toscana e non vengono girati come accade ad oggi pari pari ad altre regioni. Due, i formatori e gli istruttori, gran parte dei formatori, la stragrande maggioranza dei formatori e degli istruttori che oggi lavorano nella Scuola di Modena sono toscani, quindi potremmo utilizzare il nostro know-how in casa nostra. Terza, una scuola di formazione toscana può dare un'uniformità di formazione migliore che non una scuola che forma agenti provenienti da tre regioni differenti. Quarta e ultimo punto perché così ci possiamo concentrare a formare gli agenti di Polizia Municipale sui temi che sono più caldi in Toscana perché le peculiarità di una Polizia in Toscana non sono giocoforza le stesse delle mie Romagna e della Liguria. Voto unanime dall'Aula di Palazzo del Pegaso per la ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della conferenza delle regioni e delle province autonome. La legge, formalizzandone l'esistenza, ne agevola i compiti di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni. Lo scorso 6 dicembre c'è stata un'intesa che è uscita dalla conferenza dei presidenti delle regioni che ha avuto lo scopo di istituzionalizzare l'operatività della conferenza. All'interno di questa intesa sono state fissate le modalità di costituzione e anche il regolamento nonché le finalità di questo organismo e si è altresì previsto che ogni singola regione con propria legge vada ad approvare e a recepire questa intesa. In armonia quindi con quanto disposto dalla nostra Costituzione ma anche dallo Statuto della Regione Toscana, ovvero che si favoriscano le intese tra le regioni e che queste intese siano recepite con legge regionale, oggi il Consiglio regionale ha con legge approvato l'istituzionalizzazione e quindi la continuazione stabile di questa conferenza dei presidenti delle regioni prevedendo anche una serie di norme di dettaglio ma soprattutto recependo il contenuto di quell'intesa. Allora quando l'ultima delle regioni italiane con propria legge regionale approverà questa intesa diventerà quindi un organismo permanente la conferenza dei presidenti di regione che di fatto è già operativa dal 1981 ma che a questo punto diventa un organismo stabile del coordinamento tra le regioni italiane. Si tratta di istituzionalizzare quell'organismo cioè la conferenza delle regioni che già esistevano in pratica ormai da tempo. Le regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia, sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interlocuire tra loro giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra anche a differenza a volte di connotazione politica dei governatori e quindi è un ente che ormai da tempo lavora in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni quindi sia dalle regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del Governo nazionale a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Turismo e riforma regionale, queste le tematiche al centro dell'interrogazione che il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi ha rivolto all'assessore regionale Leonardo Marras che ha risposto in aula. La riforma del Rio, ha dichiarato Marras, prevede che le funzioni in materia di turismo compresa la raccolta di dati statistici siano trasferite ai capoluoghi di provincia e alla città metropolitana di Firenze che le esercita su tutto il territorio provinciale. L'assessore ha poi espresso piena disponibilità ad andare in commissione per portare il complesso delle azioni che il consiglio negli ultimi due anni ha discusso approvando i piani operativi delle agenzie e i documenti di programmazione. Si è detto parzialmente soddisfatto della risposta il consigliere Capecchi. Siamo parzialmente soddisfatti perché da una parte Marras ha riconosciuto che la riforma del Rio è stata un disastro che ha disintegrato le province scaricando sui comuni, in particolar modo sui comuni capoluogo molte funzioni fra cui quella del turismo senza prevedere meccanismi di finanziamento adeguato, ovvero negli anni il personale che lavorava nell'ufficio turismo della provincia è stato trasferito ai comuni capoluogo ma via via che il personale va in pensione, le persone vanno in pensione, il comune è costretto a riassumerle e in quel caso diminuisce pro capite, cioè per il singolo lavoratore, il finanziamento che quindi va a gravare sulle casse dei comuni maggiori. Inoltre ha riconosciuto Marras la necessità di fare un percorso, noi chiediamo da tempo di approfondimento in Commissione Seconda, quella che è competente per materia, proprio sulla riforma strutturale del turismo che ad oggi non è in linea la normativa regionale con il testo unico nazionale. E infine abbiamo posto il problema di come sono stati distribuiti circa 5 milioni di finanziamento per i 28 ambiti turistici con alcuni meccanismi che hanno penalizzato alcuni ambiti come quello di Pistoia rispetto ad altri. Fermo restando che ancora ad oggi la programmazione turistica è molto frazionata, molto frastagliata all'interno sia della regione sia all'interno degli stessi ambiti. Riflettori puntati sulla produzione del comparto fiori in Toscana che insieme al vivaismo contribuisce al 30% del pil agricolo regionale. Il tema è stato messo in evidenza da un'interrogazione dei consiglieri della Lega Elena Meini e Massimiliano Valdini a cui ha risposto l'assessore regionale all'agricoltura Stefania Saccardi. I consiglieri hanno chiesto quali azioni la Giunta intende intraprendere a sostegno della produzione di rose e più in generale del mercato florovivaistico. Abbiamo rilanciato due temi che stanno particolarmente a cuore ai rappresentanti del settore. Uno è la tutela ovviamente del prodotto nazionale, del prodotto italiano, in particolar modo noi in Toscana. Perché? Perché quel prodotto non è solo un prodotto di qualità ma è anche un prodotto che garantisce il rispetto di normative vincolistiche fra le più rigide, quelle italiane, che sono anche protezione di utilizzo di concimi in qualche modo assolutamente regolari e nello stesso tempo anche garanzia del rispetto delle normative che riguardano la manodopera. Quindi l'importanza del rilancio e dell'adozione di una tutela del prodotto italiano di settore e dall'altro anche la necessità di prevedere un rispetto di reciprocità per chi intende inserire nel mercato italiano un proprio prodotto dall'estero che deve evidentemente rispettare anch'esso le normative che devono rispettare gli imprenditori e chi opera nell'ambito italiano in modo che non ci siano come dire sbilanciamenti e favoritismi indiretti da questo punto di vista. Via libera da parte del Consiglio regionale alla nuova disciplina sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. L'Aula ha approvato la proposta di legge che adegua la legge toscana numero 40 del 2005 sul servizio sanitario regionale. Completato quindi l'ultimo tassello mancante per poter adeguare lo statuto del Meyer che dopo il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dello scorso agosto è diventato istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Con questa legge andiamo a modificare la legge 40 del 2005 introducendo nell'ordinamento toscano la figura degli IRCS, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, cioè la possibilità di svolgere attività di ricerca integrata in maniera forte con l'attività di cura. Lo facciamo dopo che il Meyer ha avviato un percorso importante che ha avuto un riconoscimento agosto scorso e che gli permetterà quindi di trasformarsi in maniera definitiva in azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCS. Questo sarà il nome del Meyer, l'abbiamo deliberato ora nella giunta. Nella sostanza andiamo a ridisciplinare tutto il funzionamento di questa tipologia di istituti, come si fa a nominare il direttore generale, ci sono figure nuove, il direttore scientifico, il collegio di garanzia, insomma tutta una serie di figure che permetteranno di svolgere questa attività con più attività e con più forza scientifica, con un coinvolgimento del Ministero della Salute perché ovviamente con questi passaggi chi ottiene la trasformazione in IRCS diventa parte integrante della rete della ricerca nazionale e internazionale. Quindi intanto per il Meyer un grande passaggio avanti ma pensiamo che la Toscana non si debba limitare solo al riconoscimento del Meyer, è in corso il riconoscimento anche per la fondazione Monasterio di Pisa, tant'è che abbiamo introdotto un articolo specifico per la fondazione di natura pubblica che permetterà qualora anche per la Monasterio questo percorso si concludesse positivamente di poter senza modificare la legge andare a riconoscere le figure e adeguare lo statuto e funzionamento della macchina in modo tale che ci sia riconoscimento di IRCS. Questa legge praticamente introduce nel sistema toscano per quanto riguarda gli istituti di ricerca per capirsi il Meyer di ricovero e ricerca un modello organizzativo assolutamente differente che segna a nostro giudizio finalmente una netta discontinuità con il passato, ovvero superiamo l'epoca almeno in questi istituti dell'uomo solo al comando, del Presidente della Regione che in maniera discrezionale, in maniera quasi arbitraria sceglie i direttori generali delle aziende, i quali delle aziende sanitarie, i quali poi a cascata scelgono i propri collaboratori. Qui viene introdotto un principio per il quale invece il Presidente della Giunta regionale faccia determinate scelte sentendo anche il Ministero della Salute, viene introdotto un collegio di indirizzo che noi riteniamo essere una cosa normale, opportuna, necessaria in aziende che governano e gestiscono miliardi di euro e si occupano di milioni di persone. introduce la figura del direttore scientifico che noi riterremmo essere opportuna anche nelle aziende ospedaliere universitarie. Noi riteniamo che si debba appunto superare il modello organizzativo dell'attuale ASL, riteniamo che questo modello organizzativo che viene introdotto in Toscana per recepire la normativa nazionale, non per moto proprio della Regione Toscana, sarebbe molto utile e opportuno che venisse mutuato, che venisse utilizzato anche nelle aziende sanitarie toscane, che siano le aziende territoriali o che siano le aziende universitarie. Insomma pensiamo che si debba superare l'organismo monocratico del direttore generale che viene scelto da una persona sola dal Presidente della Regione e si debba trovare una collegialità differente in sanità, nel governo della sanità, dove merito, trasparenza, competenza siano più importanti dell'appartenenza politica. Con questa intervista si chiude un'altra puntata di Cronache e Commenti, l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.